Il servizio Leggi d'Italia risponde. È possibile accedere al servizio Leggi d'Italia risponde attraverso la ricerca generale nel nuovo Leggi d'Italia enti locali. Digitiamo ad esempio la frase gara d'appalto e avviamo la ricerca. Tra i risultati selezioniamo il tab corrispondente a Leggi d'Italia risponde. L'archivio dei quesiti contiene le risposte fornite dagli esperti alle domande poste dagli operatori degli enti locali. Con la ricerca impostata il sistema restituisce la lista dei casi risolti che contengono sia nel testo della domanda che in quello della risposta le parole ricercate sempre evidenziate in rosso. La lista risulta ordinata in automatico in base alla rilevanza di ciascun documento trovato. Il meccanismo consente di ottenere tra i primi i documenti con la maggiore attinenza rispetto ai criteri di ricerca impostati. In alternativa è possibile selezionare l'ordinamento cronologico dei risultati per avere una visualizzazione dei documenti dal più recente al più remoto. Il sistema di filtri consente di selezionare i quesiti in base alle aree tematiche di appartenenza e all'anno di pubblicazione. Selezioniamo ad esempio l'argomento appalti pubblici e l'anno 2012. Si può accedere alla consultazione dei singoli casi cliccando sul testo completo della domanda. Oltre alla data di pubblicazione viene riportata l'area tematica di appartenenza, il nome e cognome dell'esperto e il testo della risposta. All'interno di quest'ultimo sono sempre presenti, in corrispondenza degli estremi dei provvedimenti normativi o delle pronunce giurisprudenziali, i link ipertestuali verso le banche dati, leggi d'Italia, enti locali. Nella sezione di sinistra, attraverso i pulsanti Annota e Archivia, è possibile annotare e archiviare il documento in consultazione. Nella stessa sezione sono visualizzabili le correlazioni che rimandano ai documenti logicamente collegati. È inoltre possibile sfogliare i risultati della lista ottenuta, ingrandire o ridurre i caratteri, salvare e stampare il documento consultato. È possibile accedere a Leggi d'Italia risponde anche attraverso il pulsante presente sulla barra di navigazione o in alternativa mediante il pulsante situato nella sezione Servizi, nella quale è sempre evidenziato il quesito della settimana selezionato dalla redazione Leggi d'Italia. Entrando nel servizio è possibile inviare un nuovo quesito cliccando sull'apposito link. La risposta degli esperti verrà pubblicata online entro massimo 5 giorni lavorativi. Il cliente verrà sempre avvisato con email dell'avvenuta pubblicazione della risposta nell'archivio.